Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video shopping con la fata turchina che vi assiste Tutto per voi, però devo togliermi le scarpe perché sennò sono veramente troppo alta Cioè, notare queste tutto il giorno ai miei piedi Lo so, fatemi i complimenti perché sono proprio brava Allora, nuovo video shopping tutto vostro Quindi possibilità di fare shopping direttamente da YouTube con me personalmente Quindi vi faccio vedere una sfilza di capi, uno dietro l'altro Voi potete prenotarli tranquillamente Mandatemi una mail, ilbaule della veronica, chiacciolagmail.com In cui mi scrivete magari il vostro cellulare e ci sentiamo in privato Oppure quello che volete voi, insomma Prenotate il più in fretta possibile perché veramente le prenotazioni sono velocissime Quindi più veloci sarete meglio è E vi invito a entrare nel mio gruppo di whatsapp di vendita Per il negozio, il baule della veronica boutique Mi sembra che non mi si veda la faccia No, mi si vede, vabbè Allora, partiamo subito perché ho un sacco di cose da farvi vedere È pochissimo tempo perché sono quasi le 9 e devo andare a cena Allora, primo acquisto Eh, primo acquisto Sono convinta ancora di parlare di acquisti Primo vostro acquisto Questo bellissimo abito di Elisa Landry Non so se conoscete il brand Elisa Landry A parte che l'abito è strepitoso È una taglia S Quindi massimo taglia 42 Ed è bellissimo Tenuto da Dio 16,90 euro Il prezzo già scontato dal Black Friday Al posto che 25 Gli abiti di Elisa Landry Li vendono per esempio da Via Condotti Andate a spiare i prezzi di vestito Così vedete un po' Però vi devo dire la verità Che è un brand che veste bene le donne Cioè rispetta le curve delle donne Esalta la femminilità Esalta la figura Non ho mai visto un abito di Elisa Landry Cadere male a una donna Qualsiasi fisicità E sabbia Ho parlato giusto? Sì Bellissimo Allora, la lunghezza Sotto il ginocchio Comunque un 42 Ci sta dentro perfettamente Vabbè, i colori sono meravigliosi C'è dentro un sacco di rosso Io adoro questi colori Sono i miei colori Che voi lo mettiate con uno stivaletto cognac Marrone, cammello Nero Cioè Beige anche Perché ha dentro anche il beige È pazzesco E poi ecco È rifinito Tipo come se fosse una camicetta In ottime condizioni Ragazzi Questo abito è meraviglioso È un affarone E se lo prendete Sicuramente Se qualcuno di voi Deciderà di prenderlo Fa un ottimo affare Seconda meraviglia di oggi Questa camicia In pura seta Questa è 100% seta Vintage È una taglia 3 Però io consiglio una S Perché non mi sembra Affatto gigante E questa è spettacolare Una camicia da lavoro Una camicia da tempo libero La portate così aperta La portate all'interno Di pantaloncini Di jeans Di gonne a vita alta Di pantaloni Cioè È meravigliosa Sottogiacca Perfetto Sottogiacca È color cappuccino Con questa gestatura sul bianco Ragazze Pura seta C'è proprio scritto Seta pura Il prezzo di quella meraviglia qua Da 20 euro Col Black Friday 15,90 euro Cioè È un affare pazzesco Anche questo Cioè Veramente 15 euro La pura seta È una rarità da trovare Poi Vi faccio vedere Questi leggings In super sconto Di motivi Che in realtà Sono stupendi E li ho scontati Perché è un po' Che li ho qua Ma in realtà Non ve li ho neanche mai Fatti vedere Quindi È una taglia ML 44 Anche morbida Anche 46 Da 11,90 euro Vanno a 6,90 euro Sono dei leggings In ecopelle Da mettere anche Con i maxi maglioncioni Tipo anche questo qua Così io Vabbè Io lo indosso come vestito Però Stanno bene anche Con questi maglioni Anche con i lacci qua Con delle camicie lunghe Insomma anche in inverno Li possiamo sfruttare tantissimo Oltre che in primavera In autunno La particolarità Di questi leggings Che costavano Ai suoi tempi Insomma Quando sono stati acquistati Un bel po' È la zip qua sul fondo Quindi Non sono dei semplici Leggings In ecopelle Normali Senza Senza senso Sì Sono utili Però Questi sono particolari Perché ovviamente Al baulio della Veronica Boutique Solo capi particolari Hanno praticamente Tutta l'arricciatura Con la cernirina Con la zipettina Quindi sono comunque Anche un pochino più bellini Ma hanno un prezzo Veramente ridicolo 6,90 euro Neanche Proprio Quali plasticosi Li trovate a questo prezzo Quindi Attenzione ai prezzi Ragazze Rapporto qualità prezzo Facciamo sempre molta attenzione Perché davvero Io vi tratto bene Non si può dire niente Allora Altro pantalone Questo qua è di Primark Quindi Questo è anche un modo Per le ragazze Che non hanno Primark vicino Che pullolano sempre pianti E dicono Non è giusto Non abbiamo Primark Non arriverà mai da noi Da me Baudolano e la Veronica Boutique Avete la possibilità anche Di fare shopping By Primark Perché io vi offro anche I prodotti di Primark Perché io Praticamente sono una Multinazionale No scherzo Sono multibrand E quindi spesso Volentieri Recupero anche Capi di Primark Che vi dirò Che rapporto qualità prezzo Di Primark Non è assolutamente male Cioè io lo promuovo Primark assolutamente Come negozio È promosso In rapporto qualità prezzo Perché comunque Ripeto In rapporto qualità prezzo Rispetto ad altri negozi Non ha nulla Qui invidiare E i prezzi Sono molto più bassi Questo è un pantalone Taglia 48 italiana Viene 10 euro scontato Al posto che 12 Ed è un pantalone Proprio semplicissimo Con una bella vita alta E viene giù Con il petalo Io lo amo follemente Questa tipologia Di pantaloni Perché mi piacciono un sacco Perché se avete anche Degli stivaletti un po' affusolati Delle ricoltere Tronchetti particolari Si vedono Anche con delle stringate Se siete magari Un pochino più alte O vi piace comunque La stringata Avete il calzino Un po' particolare Questo comunque È un pantalone Che arriva a metà polpaccio Quindi è una sorta di capri Bellissimo Molto fine Sta benissimo anche Con delle camicette sopra Con delle camicette Dentro Con dei maxi maglioni Con dei maglioni Insomma più fini Sta bene con tutto È un ottimo prezzo E soprattutto Un bellissimo colore Per l'autunno Poi Arriveremo a 10 minuti Poi ci stoppiamo Abito Anche questo meraviglioso Di questo bellissimo verde bosco Non so darvi informazioni Perché è stata tagliata l'etichetta Ma vi dico che costa 11,90 euro Al posto che 14,90 È un abito verde Una bellissima punta di verde Con questo collo a ciambella Taglia più o meno ml Quindi 44 Anche bella morbida Anche 46 Secondo me Anche in abbondanza Ed è bellissimo Da portare Secondo me Proprio anche con le calze Con le calze coprenti Con delle calze un po' ricamate Perché arriva comunque sotto il ginocchio La manichina è così a tre quarti O non è proprio tre quarti Comunque è più corta del normale Ed è veramente molto carino Guardate Ok Poi Qua arriva un pezzo Super Vabbè Questi ve li faccio vedere Guantini bianchi Però è di talli nuovi Con etichetta Da 3,95 2,50 euro Al baule della Veronica Boutique Se vi servono dei guantini Sono anche una bella idea Regalo Insomma Per Natale Vabbè Ve li faccio vedere così Molto Molto Non so ne che da metterli Boh Lasciamoli qua Allora Adesso vi faccio vedere un capo Che secondo me È fighissimo Che se c'entrassi Io penso di non entrarci È una taglia 42 Ma non è una 42 vera È un 28 finto È un 28 finto Per me è più un 40 Allora È un pantalone di Versace Originale Vintage Graviglioso Giallo Cioè Io Non lo so Lo vorrei infilare subito Temo di non entrarci Costa 30 euro Al posto che 39 Ed è un originale Versace Che vi devo dire Cioè Versace C'ha il bottoncino Proprio Super fighissimo Dietro anche C'è il brand Il marchio Sulla tasca Stupendo Spero che renda È un pantalone anni 80 La vita è bella alta E viene già abbastanza morbido Io lo risvolterei E lo porterei Con un bello stiletto Anche con una sneakers Per le più audaci Il tessuto è meraviglioso Perché è in 3D È una bellissima punta di giallo Che tra l'altro Va tantissimo Questo colore acceso Questi colori fluo Quest'anno Sono di gran moda E quindi Assolutamente Promosso Un pantalone 30 euro Che è una sciocchezza Perché adesso Con 30 euro Dai cinesi Ci compriamo un paio di jeans E non potete dirmi di no E avete un capo Di Versace originale Veramente Super Bellissimo Quindi fortunata Chi se lo caparra Poi abbiamo Questo abitino vintage Anche questo è una M Un po' fasulla Pura lana vergine Cioè è bellissimo È proprio uno scamiciatino E tra l'altro Appunto Ancora ripropongono Questi vestiti Tutti i marchi Diciamo Low cost Perché tutti questi abitini Anche con i bottoncini Vengono riproposti Qui invece avete la possibilità Di andare sul vintage Quindi la purezza Questa è di pura lana vergine O di pura lana Va bene Non vergine Comunque pura lana E viene 15 euro e 90 Già scontato Ragazze Taglia M è un po' finta Quindi consiglio magari Una S morbida Dovrei provarlo Però se siete una 42 Qua abbastanza strettine È assolutamente bellissimo E questo Ci mettete sotto una t-shirt Ci mettete sotto una camicia Vivaccia Contrasto È spettacolare Vi faccio vedere il tessuto Ed è bellissimo Pura lana vergine Il brand è Davide Collection Products by Fard Praticamente Era qualche collaborazione O qualche sottolinea O linea alternativa Di Fard Io non lo conosco Però è strepitoso Veramente Con anche degli stivali Cioè E delle calze Cioè Per l'inverno Cioè Questo chiama inverno Una bella camicia Anche magari Con delle rouge E questo qua Con gli stivaletti Un po' carini Cioè È proprio bello È proprio un bel capo Consiglio una S Un po' abbondante Dai Per avere un'ottima vestibilità Poi passiamo a un capo Che ricorda un po' la primavera Io però ve lo voglio far vedere Perché a parte che sono tutta In In Pandan Aspettate che guardo l'ora È quasi ora di andare Sono tutta in Pandan Perché Sono tutta Tiffany Cos'è cos'è Questo qui praticamente È un gilet Anche questo però Si può sfruttare Perché secondo me Lo mettete sopra una camicia Anche adesso andare in ufficio E non è male È un bellissimo colore Infatti ha un prezzo Agevolatissimo Perché a 5,50 euro È un gilettino vintage Molto carino SM Un pochino più corto davanti Più lungo dietro E questo è il tessuto Veramente molto carino Alla fine È un capo È un capo vintage Scusate Vassù un pelucchio È un capo vintage Bellissimo Anche con una bella camicia A contrasto Magari color Azzurro Bello intenso Ci sta molto bene È un bel pantalone Principe di Galles Sotto Avete il vostro gilet Un po' Tipo preppy style Un po' più Diciamo Paggettino Un altro capo vintage È questo bellissimo gilet Questo è particolare Mi piace tantissimo E sembra anche fatto Tipo a mano Ma credo che non sia fatto a mano Perché ha le etichette E tutto Però vederlo così Mi sembrava fatto a mano Da quanto è bello È rosso Colora Un bel rosso Fragola Lampone Che che sia No È un color fragola Questo Allora La particolarità di questo gilet Allora Ha il collo alto È 60% lana Quindi ottimo Direi 12 euro Ragazze Guardate Ha tutti i laccetti Scamosciati Qua sul lato Quindi questo Se avete degli stivali Che siano indianini Che siano magari anche Colore marrone Un bel marrone Caldo Questo con il vostro jeans Sotto la vostra camicia Siete super 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 fighissime Quasi diciamo Americane L'americano L'indiano americano Anzi L'indianini Cioè Non lo so È bellissimo Adesso non vorrei star parlare Però ecco È un bellissimo gilet Particolare Poi abbiamo un magliancino rosa Proprio Fresco fresco Candido Candido rosa Con la scolla Via Anche questo bellissimo Con sotto le Insomma Le Le camicine E questo Più o meno Una taglia media Che dirvi Ci sono dei disturbatori Di fuori Viene 10,90 euro Scontato Al posto che 13 Taglia media Perché vedete Sì Più o meno Una taglia ml E Non so dirvi Nient'altro Sulla composizione Perché hanno tagliato Tutti Dicevo ragazze Non so dirvi La composizione Di questo magliancino Perché non è scritta Però mi sembra Che ci sia dentro Della lana Perché è bello pelucioso Potrebbe esserci dentro Anche del mohair Assolutamente Bellissimo ragazze Questo Proprio Una bellissima punta di rosa Molto delicata Molto carina Veramente bellissimo E in condizioni ottime Perché guardate il polsino Io ragazze Vi devo salutare Perché devo proprio smammare Spero che questo video Vi sia piaciuto E ci vediamo nel prossimo Fatemi sapere nei commenti Scrivetemi in privato Scrivetemi dappertutto Dove volete Io intanto cerco di ricompormi E niente ragazze Spero di avervi fatto compagnia Di avervi intrattenuto piacevolmente E di avervi invogliato Allo shopping Che è la cosa più importante Ciao Buonasera da tutte Buonasera da tutte Buonasera da組